bella a tutti ragazzi qui Teddy e un bel po' che non mi vedete come vedete sono in stile molto casual in un ambiente diverso rispetto a quello degli ultimi tempi sono tornato a casa ovviamente come avete letto su instagram e sul post che ho fatto su youtube sono tornato a casa per delle cure psicofisiche e qui niente oggi sono qui giusto per fare un video sulla gara di formula 1 sul gran premio di baku e per darvi le mie opinioni diciamo sul nuovo formato che è stato introdotto con la super sprint race cioè non so neanche come definire l'orrore proprio che è questa roba che hanno fatto sto weekend dove praticamente hanno fatto le prove libere poi hanno fatto le qualifiche per la domenica il venerdì poi il sabato hanno fatto un'altra hanno fatto la sprint race e poi hanno fatto una sorta di qualifiche per la sprint race e poi oggi c'è stata la gara un formato osceno che non è che hanno deciso di mettere magari in una gara sola per provare no hanno deciso di mettere la tv in 5 6 gran premi brasile baku abu dhabi se non sbaglio vabbè comunque sono 5 6 gare dove faranno sta sta cosa oscena veramente sto sto imbarazzo di weekend veramente non parlo a livello prestazionale o che non sto dicendo non sto parlando della gara in sé adesso arriverò a parlare anche della gara parlo proprio a livello di organizzazione di questo tipo di complicazioni a livello regolamentare complicazioni a livello di spettacolo perché vogliono fare le cose diverse e il bello no è che continuano a ridurre i componenti utilizzabili in sostituzione della macchina quindi loro aumentano i gran premi aumentano i chilometraggi perché ovviamente anche se fai una gara di 100 chilometri come la sprint race è comunque una gara tra virgolette quindi è normale che la macchina va tirata in più fai la gara vera e propria dove ovviamente devi tirare fuori tutto il potenziale della macchina però continuano a ridurre i motori che uno può utilizzare i componenti elettronici del motore e il parco chiuso continua a rimanere parco chiuso quindi praticamente si cerca di aumentare i chilometraggi delle vetture riducendone però l'affidabilità riducendone però la performance che è una cosa di un controsenso imbarazzante però benvenuti nella formula 1 del 2023 e parlando della formula 1 del 2023 la gara di oggi è stata la gara che tutti ci aspettavamo ovvero 1 2 red bull con una ferrari ready viva con uno solo dei due piloti ovviamente con le clerk perché sainz è stato inquadrato solo perché attaccato da Hamilton e sorpassato da Alonso e poi il resto della gara sostanzialmente la gara è finita dopo la safety car causata da De Vries che si è schiantato da solo contro un muro e ha rotto la sospensione anteriore da lì in poi la gara è praticamente finita perché in ripartenza Verstappen ha mangiato le clerk e Verstappen che è stato fortunato tra l'altro perché la safety car è arrivata giusto giusto nel momento in cui lui ha fatto il pit stop e per questione veramente di un paio di secondi non lo sono sopra avanzati in 3 4 lui si è ritrovato terzo e lì ha superato ha superato subito le clerk e la gara lì poi è finita perché letteralmente Perez e Verstappen avevano un altro ritmo le clerk ha dovuto gestire la gomma perché la ferrari le distrugge le gomme una cosa oramai nota a Maranello e Alonso che cercava in tutti i modi di avvicinarsi alle clerk ma quando arrivava al classico secondino e mezzo e l'aria calda e l'aria sporca e le gomme il surriscaldamento del cristo non gli permettevano di arrivare alle clerk anche perché poi le clerk comunque accelerava nuovamente e il succo del discorso che volevo fare per quanto riguarda questo gran primo perché nel gran primo c'è veramente poco da dire nel senso è stato sulla falsa riga delle prime quattro gare cioè una ferrari che non è a livello della red bull che avrebbe fatto podio in australia con le clerk avrebbe fatto po di nostra in bahrain con le clerk però le clerk è stato cannonato in australia e distrutto il motore in in bahrain però non è a livello red bull red bull è a livello mercedes parliamoci chiaro quest'anno siamo tornati indietro l'anno scorso forse siamo stati un po come dire illusi no di vivere un'era della formula 1 con un regolamento più complicato però che dava più spazio a un due contro due quindi a red bull contro ferrari dove sia perez che sainz potevano vincere gare ovviamente facendo poi da scudieri a verstappi alle clerk invece quest'anno c'è stata una doccia gelata per quanto riguarda la competizione per quanto riguarda il passo gara per quanto riguarda le performance perché red bull è anni luce avanti a tutte le altre macchine in pista io continuo a sostenere che se puoi permetterti di di spendere di più per per la macchina negli anni scorsi è normale che puoi portarti avanti col col progetto per gli anni futuri e questo è stato sostanzialmente la ferrari fa passi indietro così fare passi in avanti però hanno tutti fatto uno step avanti mercedes molto lenta l'anno scorso sul finale di stagione è migliorata e quest'anno sta facendo vedere insomma delle delle buone gare anche se ovviamente non è la mercedes dell'era d'oro l'aston martin continua essere una macchina veloce l'ha dimostrato anche oggi l'onso dopo un weekend un po difficile perché hanno avuto problemi col drs ovviamente a bacco il drs è lo strumento principale come in tutti i gran premi per il sorpasso oramai voglio dire ci siamo ridotti a una formula un'era della formula 1 dove il drs è il sorpasso cioè non senza drs non superi in questa formula 1 quindi è normale che se non ti funziona il drs è un po difficile andare soprattutto una pista come bacco col rettilineo chilometrico però il il sunto del discorso che volevo fare è questo hanno trasformato le qualifiche in gara e la gara in qualifica o meglio hanno trasformato le qualifiche in una gara e la gara nelle qualifiche cosa intendo con questo discorso gli ultimi dieci giri di questa gara di bacco sono quello che intendo cioè gli ultimi dieci giri dieci quindici giri di questa gara hanno fatto vedere come oramai la gara sia letteralmente una qualifica da 50 giri perché perché perez verstappen leclerc e alonso erano separati perez aveva due secondi due secondi e mezzo di vantaggio su verstappen poi c'era il vuoto 10 15 17 secondi c'era leclerc e poi a 3 4 2 e mezzo secondi c'era alonso perché faceva un po faceva un po elastico alonso si avvicinava poi rallentava insomma abbiamo visto la gara no bene hanno passato gli ultimi dieci giri a fare tentativo di giro veloce giro di diciamo riposo tentativi giro veloce riposo tentativi giro veloce quindi la gara è stata letteralmente giocata per un punto uno col rischio di mandare la macchina a muro perché ovviamente tra il castello curva 16 è facile prendere il muro quindi il il focus principale di questa gara negli ultimi dieci giri non è stato superare in pista perché non c'era la possibilità di farlo ed è questo il grosso problema siccome non c'era la possibilità di superare in pista i piloti hanno trasformato la gara in una qualifica come ha detto anche vanzini a un certo punto è anche vanzini si è dovuto arrendere alla assurdità della situazione e ha dovuto constatare che la gara è diventata una qualifica di 50 giri nel caso di baku invece le qualifiche con la sprint race che adesso per fortuna non dà più la pole position perché l'anno scorso la sprint race era la qualifica vera e propria quest'anno invece hanno fatto le qualifiche quelle del venerdì e infatti le claire capito in pole position però poi hanno fatto le qualifiche della sprint race praticamente e quindi hanno trasformato le qualifiche in una gara perché poi la cioè è una cosa di un'idiozia veramente abissale veramente è una cosa che mi manda in bestia una cosa che mi mi deprime tanto per il futuro della formula 1 perché poteva anche starci l'idea di una sprint race ok però poi aggiungere addirittura cioè toglier le prove libere che sono il momento in cui le scuderie provano nuove soluzioni provano qualcosa di diverso per poter in qualunque modo soprattutto se sei inseguitrice come ferrari mercedes aston martin per migliorare la macchina hanno tolto quel tipo di tempo propedeutico allo sviluppo della macchina per inserire una gara simil gara dove praticamente i i valori in pista sono congelati perché quello che succede nella sprint race succede anche in gara e infatti nella sprint race hanno fatto perez verstappen leclerk con leclerk scusate in grossa difficoltà a livello di gomma con perez e verstappen che dormivano in macchina col pilota automatico cosa è successo oggi in gara perez verstappen leclerk con perez e verstappen col pilota automatico addormentati nell'abitacolo e leclerk che ha gestito la gomma per tutta la gara perché altrimenti dopo 15 giri di gomma dura avrebbe potuto fare un altro pit stop quindi qual è il senso di dare uno spoiler il giorno prima di come andrà la gara perché la sprint race è lo spoiler della gara perché sempre appunto sprint race è una gara anche lei tutto sommato quindi perché spoilerare i valori in pista il giorno prima quando puoi comunque dare un'illusione no che il lavoro fatto nel venerdì possa portare una macchina ad essere più competitiva di un'altra o avvicinarsi alla competitività della macchina davanti è veramente oggi è stato uno spettacolo deprimente non dal punto di vista cioè sì dal punto di vista in pista sì ma quello oramai siamo abituati no dall'inizio dell'anno l'abbiamo visto che non c'è competizione e va bene è la formula 1 e il motorsport ci sono annate in cui una macchina talmente superiore o una moto è talmente superiore che se ci metti uno dei migliori piloti o il miglior pilota sopra non c'è non c'è storia e va bene l'abbiamo oramai capito che red bull e verstappen sono imbattibili quest'anno però dal punto di vista quantomeno della dell'attitudine mettiamola così vedere queste gare che diventano una qualifica è un po brutto soprattutto come dicevo prima perché poi nelle giornate di qualifica si fanno le gare e nei giorni di gara si fanno le qualifiche e questo è un paradosso che secondo me sta ulteriormente rovinando lo spettacolo in forma 1 tant'è che leggendo poi sui social l'opinione di molti tifosi sono tutti contrarie a questa sprint race o comunque a questo nuovo formato di meno prove libere più gare più mini gare più semi gare più semi qualifiche più qualifiche cioè basta fare una qualifica e una gara il valore in pista sono quelli però devi dare l'opportunità e la possibilità alle scuterie di poter migliorare la propria macchina perché altrimenti fai come la nascar tutte macchine uguali tutte uguali ok fai un monomarca o comunque c'è sì fai un monomarca ok e li conta solo il pilota perché loro vogliono fare simile america c'è loro liberty media no che americana ha le idee americane però vuole applicarla ad un modello europeo che è il modello della non del monomarca ma del plurimarca quindi c'è renault contro ferrari non alpin alpin contro ferrari contro aston martin contro mercedes però loro prendono le loro idee americane che invece sono diciamo basate sull'uguaglianza a livello di possibilità di vittoria così come l'nb e no hanno tutti lo stesso salario k hanno tutti le stesse regole hanno cioè nel senso i soldi sono uguali per tutti a livello salariale no ok quindi loro vogliono applicare anche il budget cap che hanno messo sulla formula 1 cioè loro stanno applicando idee americane idee nate cresciute su un modello completamente diverso e opposto rispetto al nostro europeo e lo stanno forzando all'interno di un modello europeo che non ha niente a che fare con il loro e il risultato non può essere che un dominio di una macchina e un aberrante miscuglio di qualifiche gara prove semi prove non so neanche come definirlo che è stato questo weekend quindi ecco non sono qua a dire che lo spettacolo è stato osceno cioè si lo spettacolo è stato osceno ma è così da da un po' parliamoci chiaro è così da un po' tranne gli ultimi due anni dove verstappen emilton e leclerc e verstappen si sono dati battaglia ma negli ultimi dieci anni la formula 1 non è stata spettacolare parliamoci chiaro anche quando c'era vettel contro emilton o stravinceva la ferrari o stravinceva la mercedes non c'era una via di mezzo non c'era una lotta vera e propria in questi ultimi due anni abbiamo assistito a delle gare dove sono stati dei sorpassi e contro sorpassi soprattutto l'anno scorso a inizio campionato barei in jedda e quant'altro per ovviamente un cambio regolamentare queste insomma queste gomme coperte per migliorare l'aerodinamica e far star le macchine più vicino quindi però se torniamo indietro dominio mercedes era 1 2 mercedes e gli altri erano un minuto siamo tornati a quella formula 1 quindi non diciamo che lo spettacolo è stato indecente perché lo spettacolo è indecente da un bel po' a dire il vero quindi siamo abituati il problema è proprio il questo forzare nuove regole forzare regole diverse e abolire il bello della del motorsport che appunto è la prova dei nuovi componenti di vedere se il tuo nuovo pezzo è un pezzo che va nella direzione giusta eccetera eccetera così come la ferrari adesso porterà tante modifiche a imola a barcellona eccetera 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 per me non cambierà molto perché tanto il divario da red bull oramai è già di quanti sono 70 80 punti verstappen leclerc quindi verstappen dovrebbe veramente fare parecchi zeri e leclerc dovrebbe vincere 3 4 5 gare di fila con verstappen che fa un paio di zeri per riaprire un mondiale però voglio dire secondo me è già troppo tardi siamo la quarta gara del mondiale perché siamo alla quarta e per me il mondiale già finito nel senso che ovviamente perez adesso prende il suo contentino lo fanno vincere gli fanno vincere la sprint race eccetera eccetera però poi quando ci sarà da dare il tirone diciamo mondiale lo relegheranno al suo posto su questo non non ci piove quindi niente hanno trasformato le le gare in qualifica e le qualifiche in gara fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio di saluto ci vediamo un prossimo video